Sofìa, ma sai che io nella verifica di storia ho preso 9? Davvero? A me ha messo 10, non ci credo. Come 10? Niente da fare. Questa consorcia ha lasciato proprio oggi. Dai, fai provare un attimo a me. Ti dico che non va. Me ne dai uno? No. Un tirchio. Devo ascoltare tutto il giorno? Voi primitivi che litigate come scimpanzee? No, grazie. Ragazzi, andiamo a fare un giro? E dove? Comunque dobbiamo aspettare che tornino i nostri genitori. Non abbiamo molte alternative. Vi va di fare giornata karaoke? Potremmo cantare le sigle dei cartoni? Pokémon! Uccidetemi, vi prego. Mi sanguinano i timpani. Ui, con la tv? Non funziona. Si è rotto un cavo. Dai ragazzi, non è la fine del mondo. Potremmo fare qualcos'altro. Qualcosa che stimoli la nostra fantasia e che allo stesso tempo ci unisca ancora di più. Facciamo girare i crescetti nelle nostre testoline. I loro crescetti sono già morti imbalsamati. Non è già morti imbalsamati. Toc toc, c'è qualcuno qua dentro? Marta, smettila! O la prossima volta che stai seduta davanti a me in classe ti faccio i capelli a caschetto. Che antipatico. La giornata non sta andando alla meglio. Però comunque le cose migliori accadono quando i piani cambiano l'ultimo momento. Grazie Marco. Infatti stavo pensando di... Giovanni? Giovanni, scusami, ma cosa stai facendo? Oh, scusate. Stavo cercando di capire se il cricetone alla mia testa funziona. Basta questa affermazione per capire che la risposta è no. Dai Sofì, tu cosa stavi dicendo? Sono curiosa di sentire la tua idea. Ma sì, tanto. Nulla è interessante. Per una volta proviamo qualcosa di nuovo. Che ne dite del gioco dei segreti? È un modo per conoscerci meglio e per condividere qualcosa di personale, no? Sono bene come si gioiava. È semplice. Ognuno di noi condivide un segreto. Un qualcosa che non abbiamo mai raccontato a nessuno. E poi passiamo al prossimo. Però, mi raccomando. La regola fondamentale è ascoltare con il cuore tutto quello che ci viene detto. E soprattutto... farlo rimanere tra di noi. Mi raccomando, ragazzi. Mi ispira, mi ispira, mi ispira. Ci sto, ci sto. Noi siamo un gruppo. Quindi, sarà meglio sapere di più l'uno dell'altro. I segreti sono sempre intriganti. Chissà quale scheletro uscirà dall'armadio. No, no, no! I scheletri fanno paura. Non sarebbe meglio far uscire qualcos'altro dall'armadio? Tipo... Gli orsacchiotti di peluche? Sì, sei tu, esatto, sì. È un modo di dire, scemo. Comunque, anche a me piace quest'idea. Sì, sembra divertente. Ora dobbiamo vedere chi inizia. Che ne dite di farlo decidere al destino? Estraiamo a sorte? Sì, sì. Che estrae il bastoncino più corto, inizia. Ci sto. Ho sempre la solita fortuna, sempre io. Dai, stai tranquillo. Tanto tutto ciò che ci diremo resterà tra di noi. Allora, avete presente la verifica di matematica? Sì. Ho copiato da Luca. Perché... Aspetta, c'è una spiegazione. Perché pensavo di prendere l'insufficienza. Quindi... Avevo paura di deludere i miei genitori. Marco! Non c'è bisogno di copiare, siamo amici. Mi potevi chiedere aiuto. Lo so, però... Poi, se proprio devi copiare, fallo bene. L'ultima volta hai preso sei e mezzo. Uno e mezzo... Però, almeno, nella mia disonestà, rimango un po'. Vabbè, ragazzi, l'importante è che lui ce lo abbia confessato. Ci vuole coraggio ad essere onesti. Sì, tutti commettono degli errori. L'importante è imparare da essi. Se hai difficoltà, la prossima volta puoi studiare con me. Vero. Non ci ho pensato. Uno per tutti? Tutti per uno! Passeremo i prossimi test insieme. Ragazzi, questo blu della televisione mi ha stufato. Lo spegno. Io voglio confessare qualcosa di più piccante. Un piccolo gossip. Oh, la regina dei gossip ci illumina con il suo scettro. Allora, non vorrei essere indiscreta, ma ho visto Giovanni dare un bacio sulla guancia a Marta durante la gita scolastica ed è diventato tutto rosso. No, ma Giovanni era solo un gesto di ringraziamento. Marta mi ha aiutato col progetto di scienze, vero? Sì, sì, è stato un gesto innocente. Giovanni è come se fosse il mio piccolo fratellino. Oh, Giovanni, sei un vero gentiluomo. Ti mancano solo il cilindro e il bastone. Il romantico del gruppo. Almeno lui è elegante. Non come voi che vi divertite a dare fastidio alle ragazze che vi piacciono. Bleh, che schifo le ragazze. Sì, certo. Sì, certo, come no. Beh, Giovanni, tocca a te dire un segreto. Sorprendici. Allora, è un po' imbarazzante da confessare. Scrivo un diario segreto. Ho scritto molte cose su Marta, su quanto l'ammiro e sulle cose che mi piacciono di lei. Davvero, Giovanni? Un diario? Ma è una cosa dolcissima. Il nostro Giovanni, un poeta, come d'altri tempi. Fra un po' si veste anche con il papillon. Dimmi un po', gli hai dedicato una canzone? Veramente sì. La canzone che fa Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Che canzone? Giovanni, trovo che sia molto coraggioso da parte tua condividere qualcosa di così tanto personale. È bello vedere che esprimi i tuoi sentimenti così apertamente. Sei molto dolce. In fondo non c'è nulla di cui vergognarsi. E penso che ci vuole molto coraggio ad ammetterlo. Ti prendo sempre in giro perché a volte vivi nel tuo mondo, ma sappi che ti amero. Credo che ci sia più coraggio nel mostrare la propria sensibilità che nel nasconderla. Giovanni, sei davvero speciale. Grazie, grazie. Vedrai che da grande spezzerai molti cuori. Sì, come no. Sì, noi riparliamo tra un po' di anni. Ehi, scusa Joe. Mi dispiace. Non mi aspettavo questo segreto. Mi dispiace. Avremo tante cose da imparare da te. Grazie. Ragazzi, però magari la prossima volta, se volete chiederci di uscire, non lo so, inventate una poesia. Invece di scarabocchiarci i quaderni. E forse diremo di sì. Forse. Forse. Nel dubbio, iniziata con po' le sonetti. Bene. Ora tocca a me. Io ho scritto cose carine a una di voi. Il mio segreto è che... Ho creato un avatar su un gioco online con cui ho setta amicizia su Sofia. E mi vergognavo troppo di dirlo. Davvero, Marco? Cavaliere della Notte 02? Sei tu? Sì. Insomma, ci scriviamo da un sacco di tempo e non me l'hai mai detto. Lo so, ma... Mi vergognavo troppo, non sapevo come dirtelo. Che dramma di un film. È come un supereroe nascostro tra di noi. Ti è. Sono contenta che tu me l'abbia detto. Però vorrei conoscerti per come sei. È interessante come possiamo essere diversi online. Lo schermo ci protegge. Ma ha anche dei difetti. Chi lo sa, potrebbe esserci anche un vecchio panzone dall'altra parte. Un vecchio panzone. Un vecchio panzone. Un cavaliere della notte 03. Un panzone. Allora, il mio segreto è che ho trovato una lettera che Alessio della Quinta C aveva scritto per Chiara, ma non gliel'ho mai data. Mi dispiace. Luca, non hai pensato che volessi leggerla? Perché non me l'hai mai data? Sì, non è stato molto carino buttarla via senza dire niente. Ma penso di sapere perché l'hai fatto. Forse perché tenevo un segreto della CIA. E invece Luca lavora per i servizi segreti russi. Ma no. E poi, tu che ne sai di queste cose? Perché io sono Bon. Joe Bon. No, scherzo. Mi piace solo la storia. Vabbè, senza girarci intorno, il vero motivo per cui non te l'ho data è perché ero geloso. Scommetto che sei stato tu a mandarmi il bigliettino anonimo a San Valentino. Mi sembrava fosse la tua scrittura. Ti perdono. Ma non nascondermi più le cose. Detesto rovinare il bel clima, ma c'è qualcosa che dovrei dire. So di una festa che si sta organizzando la prossima settimana e... Tu, Sofia, non sei stata invitata. Davvero? Cioè, lo sapevate tutti tranne me? Beh, detto così si può fraintendere. Eh, forse dovremmo cambiare Joe. No. Voglio capire. Perché non sono stata invitata? Cosa ho fatto? Nulla. Lo sai che ti vogliamo bene? Non abbastanza da volermi alla festa. Credevo fossimo una squadra. Credevo fossimo amici. Beh, in realtà è una festa sorpresa per te. Per me? Cioè, stavate organizzando tutto questo per me. L'abbiamo fatto per rendere il tuo compleanno indimenticabile. E stavo facendo i preparativi di rascosso. Grazie, ragazzi. Non so che dire. Oddio, Sofia, ho rovinato tutto. Scusami, non me lo avevano detto. Non ti abbiamo detto nulla perché sappiamo che sei sbadata. E sapevamo pure che avresti lasciato trapelare qualcosa per errore. No, mi sento così in colpa. Tranquilla. Basta il pensiero. E ora che Sofì sa tutto, possiamo concludere i preparativi insieme. Esatto, ma dobbiamo pensare a una nuova sorpresa, dato che sa tutto. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Sofia, tanti auguri a te. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.